Vinticinquesima giornata del campionato Primavera 1, si sfidano Inter e Milan. Fisco che arriva adesso, è cominciato il derby. Calcio di rigore per il Milan. Vezzoni che colpisce Olzer, ma in realtà colpisce il pallone in maniera nettissima. Parte Olzer e Stankovic la para! Grandissima parata di Filip Stankovic che tiene lo 0-0, la gioia del capitano dell'Inter. Sottini, largo Vezzoni, si va proprio da lui che sembra essersi ripreso. Vezzoni se la porta sul destro, va al cross, in mezzo la spizzata di testa, la grande parata di Jungdall. Oddi lotta con Zanotti, perde di vista il pallone, non lo perde però Moretti che va in avanti da Oristagno. Che lotte ruba il pallone a Obaretin, trattenuto da due maglie rossonere e Oristagno passa. Oristagno va con la punta, troppo centrale per Jungdall. Stankovic profondo a cercare Satriano che litiga con Michele e Obaretin che gli regalano il pallone. Oristagno può spingere l'azione offensiva dell'Inter, viene in rigore. Oristagno va con il sinistro, Jungdall la respinge e arriva il tapin vincente. E' il gol dell'1-0 dell'Inter, Martin Satriano sblocca il derby come all'andata, segna lui, segna sempre Martin Satriano. In decisione fatale quella di Obaretin e Michelis, bravissimo Oristagno da approfittarne a capire tutto. Sinistro che Jungdall non trattiene, è in scivolata, Satriano non si fa pregare. Mette dentro il gol numero 11 del suo campionato. e sblocca il derby, non precisissimo qui Jungdall. Oristagno che va in mezzo questa volta, bene sul secondo palo! Ha un passo dal gol del 2-0 l'Inter. Questione di centimetri, sempre Satriano. La gara che ricomincia ora con l'Inter in possesso di palla. Lo scatto di Robach inseguito da Sottini, va via l'attaccante del Milan, sbaglia Sottini. Robach va in mezzo sul secondo palo, il colpo di testa! Tentato da Di Gesù, dopo il tocco di Moretti, pallone che esce davvero di poco. Oristagno, c'è spazio per Wieser dall'altra parte. Oristagno tiene il pallone, va ora da Wieser. Chiama il pallone in profondità Oristagno, che entra in rigore. Oristagno, ce l'ha sul sinistro, va col Mancino! Paratona di Jungdall, che tiene in piedi il Milan. Sbaglia l'uscita del Milan, Sangalli la tiene viva. Satriano, c'è Sangalli alle sue spalle, Satriano va col piattone! Jungdall la blocca! Bello l'esterno di Capone, largo per Oddi, che pensa al cross, lo fa partire. Nasti la spizzata, passa al pallone. Olzer! Che uscita di Stankovic! Avanza il numero due del Milan, bella palla in profondità per Nasti. Grande stop a seguire! Ma sempre Stankovic, con i tempi giusti. Acalaia, prova a passare in mezzo a due, grande giocata. Zanotti, Ceristagno in mezzo, Zanotti, concursione. Zanotti con il destro! Jungdall, in calcio d'angolo. Può chiudere col pallone tra i piedi l'Inter. Bosco Locchio, si porta verso la bandierina. E si chiude lì, rimessa per l'Inter. Ma non c'è più tempo, non c'è tempo di batterla, perché l'Inter vince il derby, grazie al gol di Martin Satriano. L'Inter in testa solitaria della classifica del campionato. Primavera 1 alla vigilia, proprio, della sfida contro la Juventus, che questo pomeriggio va battuto il Bologna contro Soprassani Nerazzurri. E allora, sabato sera, sarà una sfida al vertice, bellissima e affascinante. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Ehi, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube.